Il più complesso è quello dei servizi, del welfare, perché abbiamo almeno due terreni che sono i servizi a domanda individuale e la casa dove c'è un vero conflitto di interessi. Mentre sul lavoro mi sembra che, se volete anche come elemento negativo, ma siamo dentro una segmentazione del mercato del lavoro che tende a ridurre i punti di conflitto tra manodopera italiana e manodopera immigrata, non dico che è un fatto positivo, dico che è un fatto. Invece sull'accesso ai servizi a domanda individuale e sulla casa è un problema perché in un regime di risorse scarse tende ad accentuarsi il conflitto. Questo però non vuol dire che bisogna fare il welfare per gli immigrati, vuol dire che bisogna fare delle politiche pubbliche serie di welfare su questi. E quindi che la casa, se nell'84 si costruivano 29.000 alloggi all'anno e nel 2004 se ne sono costruiti 1.900, vuol dire che bisognerà ricominciare o a ristrutturare o a costruire degli alloggi pubblici che permettano di avere degli affitti compatibili con gli stipendi delle persone invece che essere incompatibili con gli stipendi delle persone. Così come sui servizi, adesso qua in Emilia Romagna è stato un po' meglio, da qualche altra parte si sta un po' peggio o molto peggio, ma è chiaro che tu devi garantire l'accesso all'asilo nido, cioè il problema è il welfare, non è un altro, quindi diritti sociali.